Allora, adesso è quasi l'ora di brindare, ma quanto manca, Dario? Sei, cinque, quattro... Ferma! Ma cosa stiamo bevendo? Stiamo per bere, stiamo per brindare con un'altalanga a metodo classico. Un piemontese a base di chardonnay e pino nero. Ma quindi, Dario, a quanto siamo arrivati? Tre, due, uno... Evviva! È uno! Buon anno! E quindi anche l'ultimo dell'anno è arrivato. Auguri ai miei soci e auguri a tutti voi. Buon anno, buon anno. Interessante. Cosa pensi tu, Andrea? Buono, direi interessante, secondo me... Sento un po' di idrocarburi. Idrocarburo c'è sempre. No, in realtà c'è un frutto abbastanza preciso. Non è proprio facilissimo trovarlo in un metodo classico. Fera? Fera. Sì.